Ci sono novità a Molfetta, club che giocherà il prossimo campionato di eccellenza perché il club ha comunicato che non proseguirà il rapporto di collaborazione con il direttore sportivo Danilo D'Amacco e con l'allenatore Giuseppe Branà. Lo ricordiamo, la prima squadra ha raggiunto la finale play-off promozione del girone A di eccellenza e la finale di Coppa Italia di categoria nel comunicato. Si legge che il presidente Saverio Bufi, il DG Gianni Tuosto e lo staff dirigenziale ringraziano per passione e impegno messi Danilo D'Amacco e Branà gli augura il meglio per il proseguimento della carriera professionale. Lo ricordiamo, la panchina del Molfetta è stato accostato Cristian Carbone, ultima esperienza da vice allenatore ma anche da guida tecnica della Juniores a Barletta.